Questa è stata un'esperienza molto gratificante a livello personale, io ho scoperto tante cose di me e sono molto fiera del premio che ho ricevuto e sono orgogliosa di essere arrivata al pubblico senza alcun filtro, senza alcuna maschera, ma semplicemente portando su quel palco me stessa e vi assicuro che parlare di sé a così tanta gente è davvero difficile. Io ho avuto un percorso di vita non troppo felice, non troppo facile, la musica mi ha aiutato tanto, questo percorso Sanremese mi ha dato tanto, da oggi è tutto in salita, indipendentemente da un primo, da un secondo, da un terzo posto penso che possiamo confermare tutti la stessa cosa, che nel nostro bagaglio culturale c'è di sicuro un tassello in più e quindi da oggi niente è la fine ma è soltanto l'inizio, Sanremo è una buona vetrina ed è un buon inizio un po' per tutti noi.